di nicolai vasilevic gogol la prospettiva gnevski voce di lorenzo pieri prima parte non c'è niente di meglio della prospettiva gnevski almeno a pietroburgo dove essa è tutto di che cosa non brilla questa strada meraviglia della nostra capitale so con certezza che non uno dei suoi pallidi e impiegatizi e abitanti cambierebbe la prospettiva gnevski con tutti i beni della terra non solamente chi ha 25 anni d'età magnifici baffi e un soprabito dal taglio perfetto ma anche chi si vede già spuntare sul mento i peli bianchi e alla testa liscia come un piatto d'argento va in estasi davanti alla prospettiva gnevski e le signore o per le signore la prospettiva gnevski è qualcosa di ancora più piacevole e per chi del resto non è piacevole non appena imbocchi la prospettiva gnevski non senti altro che odore di passeggio anche se hai un affare importante e improrogabile da sbrigare ecco che dopo aver messo piede qui te ne dimentichi subito questo è l'unico luogo dove la gente non si fa vedere perché spinta dal bisogno e dall'interesse che coinvolgono l'intera pietroburgo sembra che le persone incontrate sulla prospettiva gnevski siano meno egoiste che non sulla moscaia sulla gorocciovia sulla liteinaia sulla mescancaia e nelle altre vie dove l'avidità il profitto e il bisogno si manifestano sia in quelli che camminano sia in quelli che volano in carrozze e calessini la prospettiva gnevski è il punto universale di confluenza di pietroburgo qui l'abitante del rione peterburschi o del rione viborskoy che da vari anni non è più stato a trovare il suo amico di peschi o alla barriera di mosca può star certo che lo incontrerà senza fallo nessun elenco di indirizzi e nessun ufficio informazioni procureranno mai notizie così sicure come la prospettiva gnevski onnipotente prospettiva gnevski unica distrazione del poveraccio a passeggio per pietroburgo come sono spazzati con cura i suoi marciapiedi e dio mio quanti piedi vi hanno lasciato le loro orme il rozzo sudicio stivale del soldato in congedo sotto il cui peso sembra debba incrinarsi persino il granito la minuscola scarpetta leggera come fumo della giovane dama che volge il viso verso le vetrine scintillanti di un negozio come il girasole verso l'astro e la sciabola tintinnante dell'alfiere pieno di speranze che vi lascia un graffio tutto fonde sulla prospettiva gnevski il potere della forza e il potere della debolezza quale veloce fantasmagoria si svolge qui nel corso di una giornata quanti mutamenti in sole 24 ore cominceremo dal primissimo mattino quando tutta pietroburgo odora di panini ancor caldi appena sfornati ed è invasa da vecchie in abiti e pellicciotti laceri che compiono le loro incursioni nelle chiese e contro i passanti pietosi allora la prospettiva gnevski è vuota i solidi proprietari dei negozi e i loro commessi dormono ancora nelle loro camicie di tela d'olanda oppure insaponano le loro nobili guance e bevono il caffè i mendicanti si radunano davanti alle porte delle pasticcerie dove un garzone sonnolento che il giorno prima svolazzava come una mosca servendo la cioccolata adesso esce furtivo senza cravatta con una scopa in mano e butta loro dei pasticcini raffermi e altri avanzi di cibo per le vie si trascina gente povera talvolta passano anche dei contadini russi che si affrettano al lavoro con stivali così inzaccherati di fango che nemmeno il canale katerinsky pur celebre per la sua pulizia riuscirebbe a lavare a quest'ora di solito non sta bene che le signore escano di casa perché il popolo russo ama esprimersi con termini così violenti che di certo non si odono nemmeno a teatro ogni tanto se la prospettiva gnevski si trova sul suo tragitto alla volta dell'ufficio ministeriale si vedrà passare un funzionario sonnacchioso con la borsa sotto braccio si può dire senz'altro che a quest'ora ossia fino alle 12 la prospettiva gnevski per nessuno rappresenta uno scopo ma serve soltanto come mezzo a poco a poco essa si riempie di persone che hanno le loro occupazioni le loro preoccupazioni i loro fastidi ma non pensano per nulla alla strada il contadino russo parla di grivnie ovvero di monete di rame da sette centesimi vecchi e vecchie agitano le braccia o parlano da soli talvolta con gesti abbastanza bizzarri ma nessuno li ascolta e neppure ride esclusi forse i ragazzini in camiciotti variopinti che corrono come sette per la prospettiva gnevski con bottiglie vuote o stivali da consegnare a quest'ora qualunque cosa vi mettiate indosso abbiate pure in testa un berretto in luogo di un cappello o sporga troppo il vostro colletto rispetto alla cravatta nessuno lo noterebbe alle 12 sulla prospettiva gnevski arrivano gli istitutori di tutte le nazionalità con i loro pupilli dai colletti di batista i jones inglesi e i coq francesi vanno a braccetto con i discepoli affidati alla loro paterna tutela e con rispettabile gravità spiegano che le insegne sopra i negozi sono fatte allo scopo di sapere che cosa si trova nei negozi stessi le governanti pallide miss e rose e slave camminano maestose dietro le loro sottili e requiete fanciulle alle quali ordinano di tirar giù una spalla o di tenersi più dritte insomma a quest'ora la prospettiva gnevski è una prospettiva pedagogica ma quanto più ci si avvicina alle due tanto più diminuisce il numero degli istitutori dei pedagoghi e dei bambini finché ad essi subentrano i loro cari genitori che camminano sotto braccio alle loro variopinte multicolori e isteriche consorti a dir poco si uniscono alla compagnia tutti quelli che hanno terminato le loro importanti occupazioni domestiche e cioè hanno chiacchierato con il dottore a proposito del tempo e di un piccolo foruncolo comparso sul naso si sono informati della salute dei cavalli e dei figli che peraltro rivelano grandi doti hanno letto un affisso e un importante articolo sul giornale a proposito di chi arriva o di chi parte e infine hanno bevuto una tazza di caffè o di tè ad essi si aggiungono anche quelli cui una sorte invidiabile ha dato il titolo di funzionari con incarichi speciali vengono poi quelli che prestano servizio al ministero degli esteri e si distinguono per la nobiltà delle loro occupazioni e abitudini dio quali magnifici impieghi e incarichi esistono come elevano e deliziano l'anima ma ahimè io non presto servizio al ministero degli esteri e sono quindi privato del piacere di vedere il fine tratto dei superiori nei miei confronti tutto ciò che incontrate sulla prospettiva gnevski tutto è per vaso di distinzione uomini dai lunghi soprabiti con le mani sprofondate nelle tasche signore in redingote di raso rosse bianche e celeste chiaro e cappellini qui incontrerete basettoni davvero unici fatti scendere sotto la cravatta con arte straordinaria e stupefacente basettoni di velluto di raso neri come lo zibellino come il carbone e però ahimè appartenenti soltanto al ministero degli esteri agli impiegati degli altri ministeri la provvidenza ha negato i basettoni neri con loro sommo disappunto essi debbono portarli fulvi qui incontrerete baffi meravigliosi che nessuna penna nessun pennello sanno raffigurare baffi ai quali è stata dedicata la metà migliore della vita oggetto di lunghe cure durante il giorno e durante la notte baffi sui quali sono stati versati i profumi e gli aromi più sorprendenti e che tutte le più preziose e rare qualità di unguenti hanno impomatato baffi che durante la notte vengono avvolti infine cartabelina baffi a cui sono di volte le più commoventi attenzioni dei loro possessori e che i passanti invidiano ognuno sulla prospettiva gnevski e poi abbagliato dalle mille varietà di cappellini di abiti di fazzoletti variopinti e leggeri ai quali le rispettive proprietarie restano a volte affezionate anche per due giorni sembra che un intero mare di farfalle si sia sollevato improvvisamente dai fiori e si libri come una nube scintillante sopra gli scarafaggi neri che sono gli uomini qui incontrerete vitini come neppure avete mai sognato vitini esili sottili non più grossi di un collo di bottiglia vedendo i quali vi fate rispettosamente da parte perché non si dia il caso di urtarli inavvertitamente con un gomito scortese il vostro cuore è preso dalla timidezza e dal timore che magari anche soltanto un vostro incauto respiro possa infrangere queste incantevoli creazioni della natura e dell'arte e quali maniche femminili incontrate sulla prospettiva gnevski ah che incanto esse assomigliano un poco a due aerostati tanto che la dama potrebbe d'improvviso sollevarsi in aria se non tenesse il suo cavaliere già che sollevare in aria la dama è facile e piacevole come portare alle labbra una coppa di champagne in nessun luogo come sulla prospettiva gnevski incontrandosi ci si saluta in modo così nobile e disinvolto qui troverete un sorriso unico un sorriso all'apice dell'arte che può farvi liquefare dal piacere oppure al contrario farvi sentire a un tratto più in basso dell'erba costringendovi a chinare il capo oppure ancora trasportarvi più in alto della guglia dell'ammiragliato e farvi sollevare la testa qui incontrerete gente che discorre di un concerto o del tempo con eccezionale nobiltà e senso della propria dignità qui incontrerete migliaia di caratteri e di fenomeni incomprensibili creatore in quali strani caratteri ci si imbatte nella prospettiva gnevski c'è una quantità di gente che incontrandovi immancabilmente vi guarderà le scarpe e quando voi passate oltre si volterà indietro per guardare le vostre falde ancora oggi non riesco a capire perché accada questo in un primo tempo pensavo che si trattasse di calzolai eppure non era affatto così per la maggior parte sono persone che prestano servizio in vari ministeri molte di loro possono scrivere in maniera stupenda un rapporto da un ufficio statale ad un altro oppure sono persone che si occupano di andare a passeggio di leggere i giornali nelle pasticcerie insomma per la maggior parte persone proprio a modo in quest'ora benedetta dalle due alle tre del pomeriggio quando la prospettiva gnevski può definirsi una capitale che deambula al luogo la principale esposizione di tutte le migliori opere dell'uomo uno mostra un elegante soprabito del miglior castoro l'altro un magnifico naso greco un terzo porta splendidi basettoni una quarta ha un paio di occhi assassini e un mirabile cappellino un quinto un anello col talismano sull'elegante mignolo una sesta un'incantevole scarpetta un settimo una cravatta che eccita lo stupore un ottavo dei baffi che suscitano la tua grande ammirazione ma suonano le tre e l'esposizione finisce la folla si dirada